ciao a tutti bentornati o benvenuti sul canale oggi video dedicato al make up ho fatto qualche piccolo acquisto niente di esaltante però ho pensato di farne comunque un piccolo video non molto lungo in modo che vi faccio vedere questi ultimi acquisti allora ho fatto un giro per i negozi e mi sono affacciata a vedere chiaramente le ultime novità che hanno tirato fuori per la collezione di primavera sia kiko che wicon la collezione di kiko è molto carina packaging carino diciamo che da lontano fa il suo effetto guardandolo un po da vicino ci sarebbe qualcosina da dire ma insomma non è importante l'importante sono i prodotti non è quello le avrete sicuramente visti insomma non stiamo qui a parlare del packaging della collezione di kiko per quanto riguarda i prodotti non ho visto grande innovazione niente di particolare le palettine minuscole ma proprio piccole 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 un paio di prodotti mi interessavano però ve lo dico sinceramente non ho comprato nulla mi attiravano un pochino i blush quelli liquidi che sono usciti in questa collezione mi hanno ricordato molto questi blush della fruit explosion che io avevo ecco se ecco riguardandoli quelli li hanno il packaging con i fiorellini questo qui era più semplice e mi sono sembrati molto simili siccome questo blush mi era piaciuto molto infatti li ho completamente finito proprio non non c'è più nulla quelli ecco sicuramente un pensierino con gli sconti magari ecco anche quest'estate ce lo faccio un pensierino e poi ero sono entrata anche per vedere la cipria quella luminosa io mi aspettavo che uscisse la solita cipria tipo la vecchia cipria della tasca sunshine oppure tipo ecco questa che avevo trovato io ultimamente con questa texture molto sottile luminosa gessosa l'ho toccata sinceramente mi è sembrata tanto luminosa non lo so ci ci devo pensare bene la devo provare la devo vedere bene però ecco avendo trovato questa sinceramente posso farne tranquillamente a meno altre cose sinceramente non non ho visto niente di particolare per quanto riguarda la collezione di oicon anche quella molto molto carina la palette bella sui toni un po nude rosati altri prodotti anche lì non ho visto niente di particolare l'unica cosa anche lì interessante è la cipria luminosa che mi sembra abbastanza simile a questo genere prezzi anche lì altissimi ormai è diventata praticamente una una cantilena che facciamo tutti che i prezzi sono alti però tant'è io ho bypassato tranquillamente le nuove collezioni però ho visto che c'erano gli sconti da wicon sulle vecchie collezioni allora quando era uscita la collezione di natale io ero andata a vederla e c'erano un paio di prodotti che mi erano piaciuti però ho detto no no dai lasciamo stare adesso le ho viste in sconto allora prima di entrare mi ero detta se quei prodotti che ti piacevano li trovi scontati li prendo ma io ho detto ma sicuramente non ci saranno perché l'ho visto che tutti quanti belli 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 proprio quei prodotti che avevo visto io all'epoca avevo visto qualche video erano stati molto apprezzati e invece sono entrata mentre guardavo le altre cose ho fatto un giretto ed erano tutti e due disponibili poi ho detto beh dai me lo sono me lo sono detto ho detto beh il destino vuole il karma vuole che io compri questi prodotti quindi ho comprato due prodotti della collezione di natale di wicon e sono un quad di ombretti party quad a me piaceva il numero 2 la colorazione numero 2 mauve revolution io le ho già swatchati e anche in tantinello usati questa praticamente di particolare ha praticamente questo colore qui che vedete molto luminoso luminescente che è leggermente duo chrome diciamo che oscilla tra un top coat e un duo chrome ecco non so se riuscite a vedere qualcosa ecco è un ombretto rosato molto luminoso anche gli altri sono carini dato che ci sono vi faccio lo swatch anche degli altri questi sono i due luminosi c'è un rosato c'è un rosato e un colore rossiccio malva è una palettina carina a prezzo pieno a natale non non me l'ero sentita però ecco con il 30 per cento di sconto visto che mi piaceva ho deciso di prenderla poi ho sentito sempre parlare bene dei prodotti degli ombretti liquidi di wicon che escono sempre in queste edizioni limitate e a me piaceva il colore numero 04 pure light e caso vuole che anche questo era disponibile vi faccio vedere il packaging molto semplice come sta utilizzando ultimamente wicon eccolo qui è un colore molto luminoso con una tendenza rosata ecco molto carino per un look ecco molto luminoso quando viene colpito dalla luce si vede tantissimo e questi sono i due acquisti che ho fatto da wicon perché come ho detto prima era il karma e quindi visto che erano disponibili li ho presi quindi in teoria non avrei dovuto prenderli perché i quad sono dei prodotti che io non uso moltissimo però mi piacevano e ci sta un altro acquisto invece che ho fatto è per colpa o per merito dipende dai punti di vista di alcune ragazze che io seguo qui su youtube le conoscerete sicuramente sono le due sorelle martinos e giusi del canale scarlet diva makeup loro nell'ultimo anno si sono appassionate tantissimo a quello che sono gli indie brand io degli indie brand a parte qualcosina del passato non ho mai esplorato più di tanto questo mondo diciamo che io ho già da forse un paio d'anni la palette di made by michelle questa si chiama la fit on the ground che è una bella palette insomma che io ho sempre apprezzato e che mi piace molto ecco questo è qui tanto per farvi vedere è una palette sui toni diciamo dei colori della terra ci sono i verdi ci sono i gialli è molto carina e questa a detta di alcuni made by michelle rientra tra gli indie brand una palette che io ho sempre nel calpo degli indie brand è la smoke session di melt con tonalità verde e oro questa è molto bella molto carina però ecco diciamo che a parte questi due brand non ho mai comprato niente del indie brand ah no una cosa che ho comprato del settore degli indie brand è una palettina che mi ero regalata l'anno scorso una palettina componibile di glam shop di tutti i ombretti singoli ve la faccio vedere anche questa qui al volo ecco sono tutti sono quasi tutti ombretti luminosi ci sono diversi turbo glow che sono i loro ombretti luminosi ci sono ci sono dei velvet dei pearly dei glam eccola qui questa è la palette questa è molto molto carina ecco super super luminosa se la riesco a trovare ho una foto ho un piccolo video dove avevo fatto lo swatch di tutta questa palettina che dà sicuramente il suo meglio con la nuce naturale e non con le luci con cui sto registrando io stasera quindi a parte queste piccole incursioni non avevo preso mai niente ci sono delle palette bellissime veramente spettacolari però i costi degli indie brand sinceramente sono a parte qualche piccolo caso abbastanza elevati melt ad esempio non è economico alla fine anche questa palettina di glam shop comunque insomma anche se l'avevo presa in sconto una cosa e l'altra non è stata proprio alcuna spesa piccolina allora ecco dicevo ma mi piacerebbe trovare qualcosa mi ero vista un video delle martinos dove loro consigliavano degli indie brand che a loro erano piaciuti e tra i vari marchi che avevano nominato mi sembra proprio Carmen aveva nominato un marchio che si chiama Moira Makeup è un marchio americano che si trova in Europa credo su Maki Beauty e forse su Makeup.it poi ho detto ma quasi quasi mi faccio un giro anche su Vinted magari ecco trovo qualcosa a un prezzo tantino più economico vediamo mi sono messa a cercare e a un certo punto tra tutte le varie ricerche ho trovato una ragazza che aveva in vendita due palette a un prezzo piccolissimo e niente ho detto non posso lasciarle lì come si fa a lasciarle lì? quindi le ho comprate tutte e due queste sono le due palette ora ve le faccio vedere me le ha vendute tutte e due a 7 euro ognuna più la spedizione mi sono costate tutte e due le palette 20 euro quindi un prezzone e questa ragazza molto carina molto gentile mi ha anche mandato le foto dell'interno della palette sembravano nuove non toccate e niente mi sono decisa a fare questo acquisto e sono arrivate queste due palette quando sono arrivate effettivamente erano nuove assolutamente intatte e quindi ecco è stato veramente un affarone allora ho preso questa che si chiama Midnight Whispers questo è il packaging esterno packaging esterno assolutamente uguale al packaging interno è una palette con 10 cialdine ecco qui vi faccio vedere bene la palette se vedete qualche segno sulle cialde è perché io l'ho già provata swatchata e utilizzata per fare qualche trucco è veramente veramente carina l'ho provata ho fatto degli swatch i matt sono molto morbidi ve li faccio vedere anche di questa palette ho fatto un piccolo reel su Instagram se riesco a recuperarlo ve lo faccio vedere quindi già sono stata contenta dei matt ma altrettanto belli sono anche gli shimmer dato che ci siamo vi faccio vedere anche gli shimmer eccoli qua bellissima una palette bella colorata ma nel suo piccolo ecco è utilizzabile anche da sola perché abbiamo comunque un colore chiaro da mettere sotto l'arcata abbiamo dei colori dei marroncini di transizione questo in cialda sembra tanto scuro ma non lo è affatto questo invece è bello caldo è un cannello abbiamo un marrone scuro poi ecco questo rosato questo fucsia diciamo che volendo si riesce a fare un trucco completo però ecco avvilandola a una palette di transizione va benissimo l'altra palette che ho comprato è questa qui che si chiama Believe and Create Your Own Destiny anche questa qui nuova assolutamente nuova ve la faccio vedere questa non l'ho neanche swatchata è proprio in tonza questa è un po' più neutrina calda infatti ci sono diversi matt e uno, due, tre e soltanto sono quasi tutti matt e soltanto tre luminosi che sono questo qui sono solo questi tre luminosi il resto è tutta matt però ecco è comunque molto carina vi faccio al volo qualche swatch ecco questo è qualche matt guardate che pigmentazione che hanno ecco questo verde è bellissimo ma anche questo malva, questo marroncino sono veramente veramente belle sono molto contenta di questi acquisti e poi sono anche economiche vabbè io ho trovato questa super offerta questa ragazza che evidentemente se ne voleva liberare e non pensava di ricavarci chissà cosa però le ho viste queste ad esempio su Maki Beauty stanno tutte e due a circa 20 euro quindi comunque vinte da parte sono comunque molto molto economiche e si può ecco si può provare e divertirsi un pochino con queste palette move quindi questi sono gli acquisti che vi volevo mostrare non sono tante cose beh era giusto per farvi vedere i miei ultimi acquisti make up e per parlare un pochino di make up io vi ringrazio come sempre per avermi seguito anche in questo video se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su un bel like di supporto e iscrivetevi al canale se volete continuare a seguirmi nei miei prossimi video vi saluto vi abbraccio tutti ci vediamo al prossimo video ciao